I genitori di Francesca Ugeri, ucciso a diamante lo scorso 22 agosto, ringraziano tutti coloro che si sono resi protagonisti del movimento Giustizia Prefrancesco, che nel silenzio più doloroso, a distanza di poco più di un mese dal tragico delitto, hanno inoltrato in modo capillare e vilare tramite Facebook il messaggio che fare giustizia non vuol dire fare vendetta e che bisogna essere presenti col proprio contributo nella ricerca della verità. Tanti hanno assistito alla sequenza di gesti folli di quella notte di sangue, preferendo però il ruolo di spettatori mascherati dietro un cellulare per riprendere le macabre scene piuttosto di impedire che venisse sparso il sangue innocente. E' così che quei ghiacchi assassini, non con una, due, tre, quattro e molte altre coltellate inferte con crudele ferocia, tutte alle spalle di Francesco, hanno spezzato la vita di un ragazzo di solo 23 anni, vestito solo della sua giovinezza, è colpevole di credere profondamente in valori come l'amicizia. Consumato il sacrificio, il branco di malvaggi si è frettolosamente dileguato, protetto dalle ombre della notte e dal mantello dell'omertà dei più. Non c'è onore e rispetto per costoro e né ce ne potrà essere mai. Ora è arrivato il tempo del coraggio e dell'orgoglio di essere uomini veri senza alcuna distinzione distinzione di provenienza. Nella certezza che presto vengano compiutamente identificati tutti gli autori e confermando la fiducia nelle autorità inquirenti per l'impegno sinora profuso, ci corre l'obbligo di precisare che non risulta confermata in alcun modo la notizia diffusa dagli organi di stampa circa la concessione della misura degli arresti domiciliari al soggetto indiziato dell'omicidio di Francesco, per il quale è stata ed è tuttora disposta la custodia in carcera.